Radio comandati Real 45 presenta Gilles Villeneuve, il gusto del comando. I radio comandati Real 45 sono obbedienti al comando, fanno tutte le manovre e si guidano facilmente. Con i radio comandati Real 45, a serzata ed accelerata proporzionale, si può inventare in vera e propria gara in casa o all'aperto. Radio comandante, con i radio comandati Real 45 scopri il gusto del comando. Radio comandati Real 45, a serzata ed accelerata proporzionale, si può inventare in vera e propria gara in casa o all'aperto.